Settimana bella volatile sui mercati finanziari soprattutto perché Nasdaq 100 ed SP500 hanno fatto nuovi minimi rispetto a giugno ma non era un po' così quello che ci aspettavamo dall'analisi ciclica bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi andiamo a rivedere quelli che sono i grafici di lungo periodo sui mercati finanziari quindi sicuramente Nasdaq e SP che hanno fatto questi nuovi minimi batosta presa soprattutto nella giornata di giovedì dalla uscita dei dati sul mercato del lavoro americano che sono buoni, badate bene, quindi i mercati del lavoro sono buonissimi dati ma i mercati la prendono malissimo perché in questo caso significa anche che ancora la BCE farà tagli, 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 che poi in realtà non sono tagli ma sono innalzamento del tasso di interesse quindi taglio alla espansione monetaria va bene, ma come ha fatto Bitcoin? Come ha reagito Bitcoin? Bene ragazzi ed è la prima volta che sta avendo un atteggiamento veramente non correlato ai mercati hold un po' questa questione qui è legata a un discorso probabilmente proprio di fase ciclica non è detta ovviamente l'ultima parola però probabilmente siamo vicini ad uno snodo che potrebbe indicarci che forse per il momento, per questa fase di bear market abbiamo dato e quindi che poi sarà da rimandare tutto ai prossimi mesi ma facciamoci spiegare questa cosa dai grafici che come sempre non sbagliano mai perché sono dati, sono il mercato ed è la parola del mercato la parola del mercato è sempre giusta e quindi ragazzi andiamo a vedere quelli che sono un po' gli equilibri di lungo periodo iniziando proprio dai mercati delle criptovalute ma un mercato generale delle criptovalute cioè il total market cap perché ragazzi la total market cap è un grafico che ci può dare una bellissima spiegazione dell'analisi di lungo periodo del mercato delle criptovalute ci sono intanto delle strutture cicliche sottostanti anche alla total market cap perché è il mercato complessivo è anche vero che esistono i singoli asset nel settore delle cripto ma dovete anche ragionare che nel settore delle cripto c'è molta correlazione l'un l'altro per esempio Ethereum e Bitcoin sono praticamente correlati all'80% questo significa anche che andare a valutare una singola coin a volte non è molto indicativa nel settore delle criptovalute mentre valutare l'aggregato nelle analisi di lungo periodo che magari sono molto più interessanti per comprendere le fasi cicliche di un mercato e dove ci troviamo in questo momento valutare i grafici aggregati e quindi la total market cap in questo caso è molto molto utile andiamo a vedere quello che è la struttura ciclica della total market cap di lungo periodo questi sono candele settimanali quindi stiamo analizzando cicli molto lunghi ragazzi cioè per esempio il ciclo da 1400 giorni un ciclo da 1400 giorni sono circa un ciclo da 4, 3 anni e mezzo, 4, quasi 4 anni diciamo così che è proprio il ciclo che ha avuto il mercato delle criptovalute dal momento in cui è nato tra virgolette dal momento in cui è nato perché nelle fasi iniziali quando era distribuito solo in underground diciamo così o comunque fra informatici quindi quando insomma Bitcoin era veramente appena nato i dati tecnici che abbiamo sono poco rilevanti è un campione troppo poco esaustivo e quindi non ha molto senso andare a ragionare in termini ciclici su qualcosa che è completamente mutato nel corso degli anni mentre questi dati dal 2015 iniziano ad essere accettabili seppur vero che fino al 2016 ragazzi 2017 comunque parliamo sempre di un mercato molto piccolo e soprattutto poco conosciuto anche a livello istituzionale soltanto dal 2018 in poi per esempio esistono i future sui mercati sulle criptovalute e su Bitcoin e quindi solo da qui per esempio la parte istituzionale è oggettivamente già presente mentre in questa lato per esempio un po' di più un po' di meno allora i cicli ci parlano chiaro 1420 giorni io ho posizionato un ciclo molto simile a quello precedente quindi del 2015 che poi è terminato sul minimo del 10 dicembre settimana del 10 dicembre del 2018 dove ha fatto la fine del bear market e qui abbiamo invece un'altra struttura ciclica che si sta andando a completare ragazzi e teoricamente se lo guardiamo vedete come il precedente manca pochissimo tempo cioè manca pochissimo tempo perché siamo agli sgoccioli questo dovrebbe, questo ciclo da 128 giorni identico al precedente ovviamente ricordatevi ragazzi che niente si ripete nello stesso modo quindi gli atteggiamenti dei mercati finanziari sono simili secondo le caratteristiche di natura umana principi riflessivi, atteggiamenti emotivi la euforia, la paura e il pessimismo estremo che poi significa un minimo che sta per essere fatto però quello che proprio è la struttura tecnica dei mercati a volte cambia soprattutto perché le condizioni macroeconomiche generali dei mercati attuali non sono le stesse di quelli del 2017-2018 quindi io al momento utilizzo i dati che ho in mano e vado a mettere su un ciclo di lungo periodo che è in fase conclusiva intorno alla prima decada di novembre quindi in sostanza un mese e dieci giorni mancherebbe per completare questa situazione qui ma al di là di questa fase poi dobbiamo andare a vedere cosa ci dice il prezzo quindi teoricamente il bear market ragazzi lato crypto volge verso la sua fase finale facciamo il calcolo vedete qui come è molto simile se lo rappresentiamo come fotocopia del passato attenzione che può essere che questa volta non sarà così non sia così quindi questo poi lo valuteremo con calma però da un punto di vista tecnico alla fine siamo arrivati dove dovevamo arrivare perché è dall'inizio dell'anno che parliamo del concetto che ottobre novembre poteva essere il punto nevralgico per chiudere il ciclo annuale la fase di bear market e mettere un primo punto poi che sia la prossima fase una fase di bull run no perché ci potrebbe essere una fase di riaccomulazione oppure addirittura vista l'attuale situazione cambiare completamente però nell'analisi dei dati statistici i dati ci portavano comunque ottobre novembre come fase finale alla fine i mercati ci sono arrivati e badate bene anche il minimo segnato proprio nella giornata di ieri di Nasdaq 100 ed SP che adesso vedremo sono dei minimi che stavamo proprio attendendo perché non c'era congruenza con questi mercati ne manca solo uno ragazzi indovinate quale mercato manca all'appello dove sta? non c'è la verde non lo trovo più troviamolo ed eccolo qui ragazzi l'ho trovata manca solo lui perché ancora Ethereum e alcune delle criptovalute ma diciamo che le altre criptovalute magari piaggiano un po' aste stanti ma Ethereum non ha fatto nuovi minimi ragazzi ed è ancora lontano dai nuovi minimi anche se li valutiamo in close quindi una cosa non mi suona bene perché potrebbe esistere un'anomalia del genere solo in determinate condizioni allora da un punto di vista tecnico vi faccio vedere 343 giorni dall'ultimo massimo del 2018 alla chiusura del bear market quindi l'estensione del ribasso tra un massimo ed il minimo e qui siamo a 300 vedete 43 giorni siamo praticamente alla settimana finale di ottobre la settimana del 17 ottobre se l'allunghiamo poco poco per 160 arriviamo intorno al 10 di novembre io direi che da un punto di vista di estensione temporale quindi di analisi delle ripetitività temporali teoricamente dal massimo alla fase finale della calo del bear market ci siamo in termini di tempo da qui i mercati possono fare e poi prendere due strade diverse e uno ovviamente conclude diciamo con un po' di più di giorni questa fase questo è ovvio ragazzi nell'analisi del tempo esiste la volatilità come nell'analisi del prezzo quindi quando noi andiamo per esempio a valutare la volatilità nell'analisi del tempo dobbiamo mettere sul piatto il 20% almeno di direzione standard da quelli che sono i dati statistici poi questo è un dato statistico che è accaduto una volta nei dati che abbiamo ragazzi perciò ha una valenza statistica che chi di voi ha studiato matematico e statistica sta ridendo in questo momento va bene però comunque è l'unico che abbiamo quindi non possiamo non valutare l'unico dato che abbiamo cioè se io voglio vedere di che colore ho le giacche nel mio armadio ho due giacche nere sul divano dico vabbè saranno nere questa è l'unica cosa che possiamo valutare però concettualmente sappiamo che non ha nessun fondamento di significatività matematico-statistica questo ci porta anche a dubitare e giustamente prendere le dovute accortezze magari non andiamo a fare un buy the dip per dire io non lo farò mai per questo sono trend follower proprio perché sono un po' accorto però i tempi sono corretti con il passato se anche aggiungessimo il pepe quindi la volatilità a questa fase temporale per esempio sul mercato delle cripto ragazzi dovremmo aggiungere circa un 20% che sono più o meno 70 giorni quindi anche andando in addirittura d'arrivo da questa fase potremmo arrivare a circa 410 quindi intorno vedete a gennaio cioè insomma un mese in più in pratica da 17 novembre fino al 17 di dicembre quest'area temporale adesso noi la andiamo a segnare con i nostri rettangolini dal 17 nella settimana queste sono settimane di ottobre e la portiamo avanti vedete nella zona dei primi di gennaio questa è un'area temporale non di prezzo ho segnato un'area temporale che potrebbe indicarci la fine del bear market così come è stato nell'anno precedente alla fine ci siamo arrivati mi sembrava impossibile no? dal luglio del 2021 invece ragazzi il tempo passa e guardate come tutti i dati poi alla fine sono andati effettivamente in quella direzione che era la prima ipotesi poi avevo fatto altre 10.000 per vedere se sbagliavamo alla fine la prima era quella giusta l'impressione era giusta in questo caso ma manca per esempio ragazzi vi faccio vedere l'ultimo minimo proprio nella total market cap che poi è significativo qui no ragazzi? perché significa che anche Ethereum non ha andato dove doveva andare vedete questo minimo il minimo del 27 giugno della total market cap che segna 851 billion quindi miliardi di dollari di capitalizzazione e dovrebbe teoricamente toccare e tac 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 allora vedere un atteggiamento del genere è significativo sarebbe estremamente significativo se andiamo a fare un minimo in questa zona intorno agli 800-700 billion quindi sarà ragazzi comunque se fa una cosa del genere assisteremo all'ultimo l'ultima gambetta ribassista dei mercati se lo fa però siamo pronti questo è il concetto di queste analisi perché sappiamo quello che sta succedendo poi significa che andiamo a comprare subito o no? ragazzi io vi ho spiegato mille mille volte che intanto se non siete investitori trader formati col cavolo che dovete fare queste operazioni scusatemi la terminologia dovete prima formarvi e capire gli investimenti e in long term ragazzi è molto più rischioso del breve termine quindi non è assolutamente corretto essere non formati se volete fare gli investitori long term magari un giorno faccio un video dove vi spiego perché questa cosa è così e guardate bene che non è una mia opinione è un dato scientifico questa cosa qui lo so che magari sentite il contrario spesso in giro ma non è assolutamente in questo modo il long term è molto più complesso a livello psicologico da gestire quindi anche se siete long term dovete formarvi anche mentalmente conoscere studiare quello che può accadere perché è fondamentale per farvi avere i nervi saldi e farvi andare avanti nella vita senza l'ulcera perché al di là insomma dei mercati si stanno con un'altra vita poi che dobbiamo comunque portare avanti non ve ne dimenticate ma se siete anche tre in breve è una figata perché perché è un'occasione ragazzi i mercati old sono scesi i mercati classici sono scesi per fortuna noi siamo stati molto preparati nel non avere molti investimenti presenti zero cripto in portafoglio del se non bitcoin il bitcoin old che ha seguito i sistemi e ha smezzato anche molto di meno le perdite del bear market insomma siamo forti sul mercato quindi andare ad analizzare in questo momento dove potrebbe chiudere questa fase di bear market è interessante perché è proprio lì che si fa poi il migliore investimento dei prossimi quattro anni è quello il concetto un solo momento che pilota quattro anni ragazzi quindi si ci forma si analizzano i mercati per arrivare a quel giorno lì quando premiamo il bottone è un giorno che premiamo il bottone e sono due anni che analizziamo e studiamo questo è il concetto vero dell'ottenere un risultato nel lungo periodo si fa così insomma in tutte le cose allora questo è una finestra temporale che vi regalo oggi in questo video ragazzi zona 17 di ottobre se però il mercato anticipa e inizia a breccare per esempio rompendo al rialzo questa zona qui che sono i 1200 billion hanno quindi un trilione e due e beh ragazzi qui potrebbe aver troncato tutto iniziare una nuova fase secondo me è prematuro se fa una cosa del genere però è possibile anche in virtù del concetto che c'è uno squilibrio tra quelle che sono le quotazioni delle cripto in dollari e quelle che sono le quotazioni delle cripto in euro noi tradiamo sempre in dollari il dollaro è un'altra moneta globale però è anche vero che l'euro rappresenta una enorme fetta di investitori nel lato cripto e in questo momento se guardiamo lato euro le criptovalute troviamo in pratica un'altra un'altra strada diciamo un altro mondo però in linea di massima ragazzi dobbiamo avere poi dei dettagli dei dati che devono essere assolutamente consoni e corretti e poi noi dobbiamo seguire determinate logiche quindi in questo momento seguiamo quelle con il dollaro però magari della questione euro ne parliamo in un video approfondito detto questo che è un grafico ragazzi di enorme importanza lo andremo poi a valutare nei prossimi settimane perché ci siamo siamo a cavallo ormai manca praticamente 20 giorni vediamo cosa succede un'eventuale fase di crash potrebbe essere interessante anche andarla a splittare per esempio con un avventuale rimbalzo su un portafoglio cripto che a quel punto avrebbe senso perché avrebbe una odds quindi una probabilità leggermente favorevole no? un edge leggero un alfa leggero in termini di probabilità che potremmo sfruttare proprio per il posizionamento long term che in questo caso non è stato fatto nell'ultimo anno e mezzo ragazzi perché era sbagliato farlo in un bear market tutto qui e quindi non si può andare a ragionare in un bear market posizionandoci long term perché si rischiava praticamente di romperci la testa anche perché come vi dicevo non è detto che questa volta funzioni come la volta scorsa quindi la volta precedente allora andiamo avanti vi faccio vedere quello che è stato il Nansdak ed è quello che era la struttura di questo ciclo di natura trimestrale si chiamano così cicli trimestrali che uniscono in sostanza tre mesi che doveva fare un nuovo minimo perché se faceva un nuovo minimo poteva indicare proprio la chiusura di un ciclo annuale anche su Nasdaq 100 ed SP500 e poi quindi da lì giochi le c'è son fe come si dice e poi si poteva ripartire è stato fatto proprio una giornata di ieri lo aspettavamo quindi come vi ripeto manca l'appello teoricamente Ethereum che non l'ha fatto e lì è un'anomalia che bisognerebbe vedere c'è ancora tempo anche qui vedete per arrivare fino al 17 perché comunque c'è la volatilità classica dei tempi poi però bisognerà cercare di comprendere meglio la struttura ciclica annuale di Nasdaq proprio perché in questa fase qui della superpolla creata dalla Fed durante il post Covid non abbiamo idea delle strutture cicliche perché non si vedono i cicli ragazzi perché non si vedono i cicli perché quando un mercato viene fortemente manipolato da un'istituzione come la Federal Reserve con un banco centrale della BCE o chiunque altro un'istituzione forte la struttura ciclica del mercato la natura del mercato perché il ciclo e la natura del mercato non comprende la manipolazione quindi se io vado a manipolare un mercato non trovo la struttura ciclica non la vedo perché esiste la struttura ciclica dentro quel mercato ma la manipolazione la nasconde perché gli fa prendere diciamo una direzionalità che non è più visibile il ciclo sottostante e su questo mercato Nasdaq proprio durante la fase del post-Covid il ciclo non si vede ragazzi non si vede perché le strutture della Fed lo hanno mascherato quindi non riusciamo a vederlo dobbiamo un po' andare a tentoni e questo è un po' complesso quindi poi faremo un briefing con un video dedicato proprio al Nasdaq però nei mercati old il minimo di ieri può essere adatto a chiudere questa fase poi per concludere diciamo questo video ragazzi che voleva indicarvi delle fasi da tenere sotto controllo vi faccio vedere anche la struttura tecnica di Bitcoin che è ancora debole e poi la analizziamo lunedì vedete ancora gli swing sono tutti proiettati al ribasso perché abbiamo un massimo un massimo e un minimo qui con un minimo inferiore ora anche se forse questo rialzo lascio il tempo che trova perché ragazzi se fa uno swing qui può chiudere magari in questo modo tutta l'ambaradam il 17 settimana del 17 di ottobre allora se ci becchiamo con questo 17 ragazzi io ve lo dico chiudo il canale per una settimana me ne vado alle bamat infetta però cioè valutiamo anche questi questi concetti perché l'ultima volta abbiamo identificato proprio così un'area di massimo storico di bitcoin adesso insomma può capitare per fortuna queste cose perché non abbiamo la palla di vetro però l'analisi dei dati soprattutto su mercati inefficienti come la cripto spesso porta buoni 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 risultati fin quando funziona la usiamo poi vedremo allora solo un superamento di questa fascia di prezzo invece vedete indica che qui è stato chiuso un altro ciclo e che tutta questa fase appartiene al vecchio e che da qui è iniziata una fase nuova completamente diversa da questa qua allora solo su una fase del genere noi potremmo identificare la questione come un tentativo lungo e poi valutiamo anche il cosiddetto schema del doppio annuale ribassista che alcuni di voi che sono ciclici che sono bravissimi la ciclica me l'hanno proposto nell'ultima live q&a che ho fatto ragazzi rispondono alla vostra domanda è una figata è stata quella live andatela a vedere nel video però quella ipotesi di un doppio ciclo ribassista anche il prossimo anno è delicata è la prima volta e non abbiamo nessun dato storico però potrebbe accadere questo però ne parliamo poi successivamente detto questo ragazzi noi siamo arrivati alla fine di questo super video attendiamo con ansia che il mercato ci faccio sapere che cosa ha in mente soprattutto andiamo a vedere quelle che sono le questioni legate a nasdaq ed s&p poi una questiona vera dico ragazzi la fed noi sappiamo tutto quello che è stata la politica monetaria che ha indicato diciamo ha fatto il buono e cattivo tempo in questi anni sappiamo però quali sono le loro idee e paurezzato chiaro quindi non è difficile comprendere come il mercato si muoverà in questa fase perché come vi ho spiegato negli ultimi mesi il dato della disoccupazione ieri avete visto cosa ha combinato cioè un dato positivo molto positivo ha fatto crashare i mercati come vi ho spiegato due settimane fa perché l'analisi macroeconomica ragazzi non è un'analisi aleatoria più di tanto è aleatoria nei dati però è concettualmente comprensibile perché è economia quindi guarda la si studia e la si impara non è che allora non sappiamo il dato che esce ma l'interpretazione del dato la conosciamo e infatti così è stato per i mercati ora questa cosa durerà per sempre no durerà fin tanto che il mercato si preoccupa della questione dell'inflazione e cioè del rialzo dei tassi della FED nel momento in cui la FED ha fatto il suo corso e sembrerebbe che il rialzo dei tassi dovrebbe finire intorno all'aprile prossimo e poi insomma finisce e si passerà alla valutazione di questi indici dell'economia in maniera differente quindi queste cose sono da analizzare ragazzi non sono sempre uguali dipende dal momento quindi in questo momento il dato positivo della disoccupazione ha fatto crashare i mercati pensate un po' di solito è il contrario però in realtà cosa fa Paguer lo sappiamo i dati sono questi quindi a questo punto ragazzi un po' il mercato ha scontato tutti gli eventi negativi poniamoci questa domanda fatemi sapere cosa ne state voi nei commenti però io dal mio punto di vista vi dico che il mercato gli eventi negativi che sono legati all'inflazione e al rialzo dei tassi li ha scontati cos'è che non c'è ancora nei prezzi di mercato uno gli eventi straordinari dovesse inaspirsi in maniera estremamente pesante il conflitto bellico con la Russia la questione sarà delicatissima e sarebbe un disastro mai prezzato nei mercati l'inflazione che non è più controllabile questa non è prezzata nel mercato il mercato in questo momento ha prezzato un alto tasso di infrazione ma anche ha prezzato il fatto che la Fed lo riesca a controllare se invece nei prossimi mesi noi dovessimo assistere ad un ulteriore rialzo della CPI come indicatore oppure ha una evidenza che la Fed con il rialzo dei tassi non riesce a calmerare il tasso di infrazione la questione sarà negativa per i mercati come vi dicevo questi due eventi teneteli con la lente di ingrandimento che non ho uso gli occhiali così con la lente di ingrandimento perché sono le leve che guideranno gli andamenti di mercato nelle prossime settimane questi due fino al fine dell'anno vedremo se non è così ciao a tutti ragazzi ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti